Fisca tre volte Rappuano, libera il proprio grido allo stadio, ma adesso si, arriva di passo spedito negli spogliatoi perché la Juve ritrova la vittoria, balta 3-2 il Frosinone con un grandissimo Vlaovic, autore di due gole e un assist ma con una rete al 95esimo, firmata da Regani dopo delle sofferenze, complimenti per Vlaovic complimenti per Vlaovic, davvero, complimenti per Vlaovic a riuscire a essere il capocannoniere o meglio il miglior marcatore di tutta Europa in questa squadra, ha un passo da fare delle robe che io non ricordo mai memoria 5 partite senza vincere la Juve, in un mese febbraio che ci lascia l'unica gioia, febbraio 2024 l'avrei appeso con un quadro Juve Empoli 1-1, Juve Udinese 0-1, Verona Juve 2-2 e soprattutto Juve Frosinone 2-2 dopo che sei riuscito a far segnare l'Udinese che non ti segnava da una vita, dopo che sei riuscito a, va bene, dai, fare suscitare il Verona tutto, tutto, in un mese e due, considerando quello di gennaio dove dovevi consolidare il secondo posto mantenere distanza da Atalanta a Bologna diciamo, che dire lasciare indietro il Milan? proprio, neanche considerarlo, ti sei ritrovato al 95esimo a dove di forse Cagliari-Napoli non la guardo perché sennò mi spaventava anche Calzona santo Dio, in un finale chiuso senza Rabiot, senza McKennie, con una Juventus che mi viene da ridere perché ha fatto gli stessi tiri di quelli che in porta si prefissa Allegri la Juve è pagata, no, è costruita per far 5 tiri in porta al quinto tiro si è vinto è incredibile come ho stessa roba che provano i Mianisti verso Pioli alle volte quasi non gli si riesce in qualche modo a dirgli sbagliate proprio tutto questa cosa l'ha indovinata, il numero di tiri in porta perché aveva previsto che Ildiz davanti alla linea col sinistro se la sciapattasse sul destro aveva previsto che Blauic non riuscisse a deviare quella palla con i riflessi in porta aveva previsto che Arcadius Milis entrasse in campo con una vergogna in mai vista da giocatore della Juventus dopo 4 sconfitte di fila senza una benché minima rabbia Juve ha un passo da far fare al primo punto della storia del calcio del Frosinone in Serie A con la Juve e in questo canale da 4 anni credo di averle viste tutte Adolfo Gaic in Juve Benevento Juve Frosinone nel momento in cui è stata sopra di due gol o nel momento in cui McKennie sbaglia un passaggio elementare scimola e recupera scimolando io lì veramente ho detto basta spegniamo la televisione Tommy si è ricordato che la Juve forse quest'anno ha fatto il record di gol al 95esimo pensavo si fossero esauriti i bonus dello slot della provvidenza e invece va il ottavo gol tra Rugani, Bremer e Gattin si direbbe forse siamo gli unici in questo che riusciamo con i centrali difensivi o nei calci d'angolo a essere una sentenza quasi una partita ogni due incredibile no incredibile veramente che tu San Blaubic sia stato capace di fare tutto questo cioè nove gol, quasi uno meno di tutto il suo 2023 e in questo momento dove certo le avversarie, no? appunto che hai affrontato anche se nessuno va sottovalutato Sassuolo, Lecce, Frosinone gli hanno permesso di realizzare tre doppiette ma... ma... appunto in questi momenti sapete che rimpiango? pure Ken! perché se devo vedere dalla panchina entrare Milik in quel modo io rimpiango pure Ken che fino a prova contraria quando era presente in campo a parte che si vinceva dice, insegnava e si vinceva boh sarà perché almeno in attacco faceva delle cose per creare un po' di allarme alla difesa avversaria ci provava e si sbatteva con tutti i limiti tecnici che ha poi ragazzi a proposito dei limiti tecnici veramente Allegri in ogni conferenza oh dobbiamo stare più attenti o dobbiamo subì go? ma come ci infilano ragazzi? siamo come delle... ci entrano da tutte le parti così cioè vabbè è veramente uno che proprio passami in mezzo fai di me quello che vuoi tanto io lascio free pass a tutti te entra chissà Brescianini aveva detto Angelozzi il DS del Frosinone questo giocherà alla Juve all'Inter al Milan oh aveva fatto due gol come fu lo ruscio arriva al terzo e si conferma in grado di squadra in grado di Pia Goppe la quinta volta di Fia Juve rimpiango vei tempi in quel Egridi o beh almeno sembrava un po' noioso nel dire dobbiamo stare attenti alla fase difensiva almeno l'ascoltavano vi niente i gol di che dia ragazzi quattro giocatori dietro che dia uno solo in area ci segna e non c'è modo di evitare quel gol la passività della Juve in fase difensiva con la linea dentro la porta è una cosa che non è commentabile poi rivedo con chi abbiamo vinto ragazzi di Francesco ma che serata ha fatto in qualche pub di Torino c'aveva degli occhiali che probabilmente sotto ci lasciava il seno del gin tonic da quanto ce ne aveva sfiorata nelle pupille abbiamo fatto piange sta bionda che pensava col Frosinone di rilassarsi in attimo invece no oh partita da Premier League gol all'ultimo secondo 4 gol nel primo tempo potremmo dire che siamo belli solo in questo Serie A a farlo diventare un campionato dove è tutto possibile solo in questo momento l'unica cosa che è possibile è riuscire a creare un ciclo peggiore di quello che stanno facendo negli ultimi anni il Chelsea e il Manchester United uniche due squadre al mondo che puoi ritenere peggio di questa Juve nell'ultimo periodo storico o che sono da più anni squadre che non si riescono a una ripiglia più squadre che sono seguite in tutto il mondo basta perché poi mi vengono Barcellona forse dagli ultimi 4 anni cioè c'era anche se hai fatto un segnale dal Bayern Mola una squadra che non aveva vinto le ultime 4 partite avevano vinto ieri con Kane nel finale no insomma la Juve ce l'ha fatta a ripigliare l'onda con l'uragano Rugani credi è il giochino di parole che ci siamo creati in questa storiera è entrata al Carac si è fatto male Radio si è fatto male McKenny non so come finiremo marzo e aprile cioè capite bene che se la Juventus non avesse vinto questa gara in qualsiasi modo davvero Cagliari-Napoli due occhioni così calzona rimonta la Juve la Lazio con la Fiorentina chi ha più punti e vince ci ripiglia la Roma di De Rossi cioè ragazzi qui qualcuno mi ha preso veramente alla leggera nell'ultimo video in cui sto ad analizzare il fatto che la Juve deve guardarsi anche dal fatto che il Regni ci può regalare una possibilità anche in caso di quinto posto di stare tranquilli ma le prossime sono contro il Napoli che comunque da 5 anni ci si vince al Maradona sono con l'Atalanta c'è da affrontare il Bologna al Dallara c'è ancora c'è all'Olimpio con la Lazio e con la Roma dove anche l'Ince vinci da parecchio c'è da c'è con la Fiorentina in casa o col Torino che prima o poi un punto te lo farà nella sua storia davvero le partite proprio alla portata della Juve sono finite pure andare a Cagliari nel momento in cui dovranno salvarsi forse c'è con la Saliridana 3 dalla fine che forse sarà Giambi non lo so con questo Sassuolo ma davvero cioè in caso di parecchio ma cosa vi avrei potuto dire di quale paura potevo non avere quale paura potevo non avere in questo momento un classifica guardando queste prestazioni e ci si è salvati in modo che non mi fa di certo stare tranquillo in modo che di certo mi fa stare sereno che mi tiene un attimino con la speranza di poter dire sì la Juve ha ribaltato no la Juve è passata per la prima volta dopo un mese in vantaggio si è fatta richiappare è andata sotto l'ha recuperata ma mamma mia cos'è servito cos'è servito tira 5 volte in porta dimostrando lì davanti anche degli errori grossolani dei gesti di stizza Vlaovic meritava un giallo per una gomitata rifilata doveva saltare Napoli tanto che cambia poi se lo piglia con Napoli salta l'Atalanta meritava comunque cioè Cambiaso che spazza un pallone tirandolo addosso a qualcuno sugli spalti Chiesa che manda affanculo pure il suo padre che l'ha messa al mondo che ha dato un cognome degno di magari miglior fortuna in questo momento tutto ragazzi tutto 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 abbiamo fatto rinasce che dirà che dirà non voleva ancora più il Marocco per come stava gioando un gol sei fatto via al posto a Caio George ti voglio bene a Caio ma è quello che si mangia più godi tutto davanti alla porta dopo il paraplegico quasi Milik perché io ci provo ci provo ci provo non insultarlo ci provo ma come cazzo come è entrato Milik gli ultimi 5 minuti ho gottè Milik non mi interessa se ci sono stati altri giocatori quasi indegni quanto te ma davvero oggi piglio te perché vorrei farti vedere come sei entrato che palloni hai messo in campo veramente cioè Illiz ti mette le palli davanti te non sai neanche dove andare non sappiamo nulla nulla vabbè ripeto quel momento in cui McKennie ha passato male la palla è scivolato e riscivolando impedisce al Frosinone di fare il terzo gol con quello che sarebbe stato il classico gol o assist dell'ex di Sule mi ha dato veramente il punto di strapiombo più grande di questa storia cioè davvero io ricordo una Juventus di Del Neri che batte l'Inter che chiuderà al secondo posto quella nato al terzo poi perde tre partite di fila ne pareggia una e vince di misura col Brescia quindi ho detto stava per succedere qualcosa di peggio dell'era del Neriana ma evidentemente l'unica cosa di diversa da quell'epoca lì è che ai tempi si pirava con l'ultimo chi si ricorda bene il 2011 o sa l'Odi e per gli sedi che sto parlando e che la classifica è migliore apparentemente ma secondo me non ci crediamo non lo sappiamo che facciamo essere più avanti l'Atalanta e il Bologna bene non ci crediamo non ci crediamo Grazie a tutti.